Nei pressi di Genova, in un contesto storico perfettamente conservato e circondato da natura incontaminata, Castello Becchi sarà la cornice ideale per i festeggiamenti del vostro matrimonio. Castello Becchi dispone di ambienti interni dotati di arredamenti sobri e raffinati, caratterizzati da soffitti a cassettoni e da eleganti decorazioni che catapulteranno voi e i vostri invitati in un'atmosfera ad altri tempi. Nell'ampio giardino esterno, invece, avrete la possibilità di allestire alcuni momenti del banchetto, celebrare la vostra cerimonia nuziale in modo molto romantico o semplicemente sfruttare i suggestivi scorci per un servizio fotografico meraviglioso. Lo staff sarà sempre attento alle vostre esigenze e vi proporrà molteplici soluzioni per trasformare il vostro ricevimento nuziale in un evento unico e indimenticabile. Discreto, professionale e raffinato, il personale si prenderà cura di ogni minimo dettaglio, riservando un'accoglienza speciale a voi e ai vostri ospiti. L'atmosfera emanata da questa location storica, che salta all'occhio per la sua maestosità, i bellissimi mattoni a vista e le meravigliose torri che lo compongono, renderà il vostro evento davvero irripetibile. Grazie!